ciao a tutti io sono barbara e io sono stella e lara non c'è no è a scuola ma beh ci sei tu sì mi raccomando non mangiarti tutto non garantisco vabbè cerca di stare buonina e io sono lolina ciao lolina adesso ti metto in casetta lol perché sta per cominciare una storia no più di là no dall'altra parte sì no ancora 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 ecco qui qui sto proprio bene ah vuoi stare vicinato anche a voi sì è bellissimo magari un giorno riesco anche a uscirci speriamo allora ragazzi la storia di oggi è molto molto importante perché parla ancora una volta dei pericoli di internet e dei potenziali cattivoni mi raccomando ho scoperto una cosa gravissima che devo assolutamente raccontarvi e ve la dirò in una storia in modo che vi divertiate ma che vi faccia anche un po pensare parlatene con i genitori parlatene con i vostri amici avvisate tutti quanti di quello che vi racconterò in questa storia perché è molto molto importante se sapete difendervi non correrete rischi e pericoli quindi le cose bisogna saperle e bisogna affrontarle nel modo giusto buona visione buona storia è un nuovo giorno a casetta lol e tutte le lol stanno facendo qualcosa chi prende il sole chi prova gli spettacoli chi cerca di parlare con anche voi e chi guarda il muro e chi gioca in giardino e a un certo punto le piccole lil si stancano di giocare in giardino e vogliono andare in cametta a guardare qualche video su youtube mi raccomando ragazzi solo 30 minuti poi tornate a giocare all'aperto tipici ok lolina da quando ho saputo quella cosa del cattivone che voleva rubargli i dati alla fine ho messo il parental control e limito molto il tempo che passano davanti agli schermi mi pare molto giusto spiffo anche perché non è che si può stare sempre davanti agli schermi e si infatti appunto troppo internet troppi video non fa bene a meno male adesso che però ho tutto quanto sotto controllo sono molto molto più tranquilla e mi posso anche rilassare al sole a che bello in effetti spiff era molto attenta a come le piccoline guardavano internet aveva impostato dei blocchi che evitavano di poter accedere a siti pericolosi quindi le piccoline guardavano i loro cartoni animati e i loro video dei loro youtuber preferiti e ogni tanto lasciavano qualche commento e chiedevano qualche cuoricino tic 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 merava bello che bello grazie oh questo fa ridere ah 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 tp t guardate ci ha messo un cuoricino evviva 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 cuoricino cuoricino tp t cuoricino ma nessuno pensava che c'era un pericolo dietro l'angolo questa volta le ingannerò a dovere mi sono creato un profilo identico a quello della loro youtuber preferita ho messo lo stesso nome e anche lo stesso bollino l'icona insomma quella che sta accanto al nome uguale uguale e adesso sapete cosa faccio scriverò qualche risposta vediamo se ci cascano tp t ma guardate ci ha risposto tp t ci ha risposto tp t ci ha risposto bene vediamo cosa posso rispondergli si volete un giocattolo ve lo mando a casa partecipate al mio giveaway vogliamo parlare su whatsapp se volete vi do il numero così mi potrete chiamare ora scrivo tutto tp t ci chiede se vogliamo un regalo ce lo manda a casa sì tp t sì regalo sì tp t che bello bene loro sono convinte che sia la stessa persona che ha il canale ormai posso scrivere un numero di telefono e farmi chiamare o farmi mandare dei messaggi oppure mettere dei link ad altri siti e loro sicuramente ci cliccheranno sopra è stato semplicissimo lì il coconut però non era del tutto convinta si ricordava che la volta precedente era stata in pericolo che avrebbe dato dei dati a un cattivone se non fosse stata fermata in tempo e quindi ci pensò bene e capì che c'era qualcosa di strano sembrava tutto perfetto la loro youtuber preferita stava rispondendo ai loro messaggi era proprio lei non poteva essere nessun altro o forse sì nell'incertezza preferì chiamare i grandi e chiedere un consiglio per sapere se stava facendo la cosa giusta eh tp t lolina cosa c'è picci picci dimmi coconut successe una cosa racconta stavo vedendo un video e la mia youtuber preferita ha messo un cuoricino tp t oh che bello se sei molto contenta immagina tp sì poi ci ha risposto che fortunata che sei eh sì ha scritto che siamo carine che ci vuole bene e ha chiesto se vogliamo un regalo un regalo? perché c'era un giveaway? no così volete un regalo? mi pare strano chissà quanti glielo chiederanno e poi ha chiesto se ha detto se vogliamo parlare su whatsapp ci dà il numero e se noi ne diamo il suo? cosa? ma onestamente non credo che sia possibile quello è un canale per bambini ma è un canale serio non credo che possano fare queste cose che ne pensi punk boy? mi sospettisce insospettisce molto anche me senti mi fai vedere il computer per favore coconut? tp sì lo vado a prendere subito tp arrivo tp tp ah è scascata lei non cadete sempre adesso caschi anche tu eh sì allora guardiamo fammi controllare no ma ti rendi conto? eh ho capito benissimo tocca chiamare assolutamente qualcuno ma di corsa barbara dimmi lullina è successo così 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 così? ah veramente? già adesso vi spiego spiego anche a chi è a casa che cosa è successo vi spiego brevemente come succede lullina apre un canale youtube e diventa molto molto famoso il suo canale si chiama appunto lullina e il suo simbolo è un cuoricino quindi quando lullina lascia un commento apparirà una icona rotonda con un cuoricino e la scritta accanto del suo nome lullina e poi quello che lei scriverà nei commenti che succede? quando qualcuno le manda un commento lei se risponde apparirà appunto questo eh questo disegno e questa scritta la piccola coconut le scrive un messaggio ti adoro e lullina le risponde può metterle un cuoricino che fa capire che ha visto il messaggio e che le piace oppure le può scrivere un commento sotto che apparirà in questo modo un po' più in basso ci sarà il commento ovviamente coconut sarà contentissima sia del cuoricino che della risposta di lullina ma è qui che arriva il cattivone che cosa ha fatto il nostro furbone? ha aperto un canale vuoto in cui si è chiamato lullina e in cui ha scelto come immagine lo stesso cuoricino che ha lullina e quindi se il cattivone entra nel canale di lullina e mette un commento il commento sarà proprio uguale 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 a quello di lullina ma questa risposta non l'ha fatta lullina l'ha fatta il cattivone come si fa a capire quale dei due commenti è vero? basta fare clic sul cuoricino se rimanete nel canale di lullina è tutto a posto ma se cliccate su questo di cuoricino vi troverete improvvisamente in quest'altro canale che magari ha meno iscritti o ha dei video diversi e quindi se vi trovate in questa situazione chiamate immediatamente i vostri genitori e fatelo segnalare perché è un truffatore mi raccomando spero che questa cosa vi sia molto molto utile hai detto una cosa veramente importante adesso bisogna avvisare la polizia per prendere questo mostro benvenuti al TGLOL270 è stato appena arrestato un cattivone aveva creato account copiando il nome e cognome di youtuber famosi poi entrava nei canali veri e scriveva dei commenti e i bambini ci credevano e poi lui chiedeva numeri di telefono per chattare su whatsapp quando il vostro idolo vi risponde mettendovi un cuoricino è tutto a posto quando invece vi scrivono dei commenti c'è un modo semplicissimo per vedere se sono veri o se sono di qualche cattivone basta cliccare sul disegnino su quella icona rotonda accanto al nome se rimanete nel canale tutto a posto ma se improvvisamente vi trovate in un altro canale allora chiamate i vostri genitori e fate segnalare immediatamente perché quello è un furto di identità ed è pericoloso per voi se imparate questa semplice regola correrete molti molti meno rischi diffondete questa notizia quindi questi cattivoni si possono fermare? ma certo Lollina basta segnalarli adesso sapete anche il trucco per capire se state parlando con il vero youtuber o con un fake e quindi adesso sapete come difendervi e se mi chiedono il numero di telefono? non lo devi dare Coconut il numero di telefono in questo canale non verrà chiesto mai a nessuno non date mai il numero di telefono a chi li chiede nei commenti mi raccomando in nessun canale perché può essere pericoloso ho una domanda anch'io dimmi piccolina a volte io metto dei commenti e sotto mi rispondono altri canali dicendo passa anche nel mio canale iscriviti mi raccomando c'è un giveaway che devo fare? allora ecco voi magari siete in un canale come questo che pensate sia sicuro e tranquillo vi arriva una pubblicità sotto i vostri commenti di canali esterni che magari io non conosco io li sto cancellando tutti quanti vi consiglio soltanto i canali dei miei amici ve lo dico a voce e ve lo scrivo in descrizione se qualcuno sfrutta la mia immagine per farsi pubblicità io lo devo cancellare e vi posso soltanto dire di stare attenti perché non è detto che appunto sia tutto regolare quindi mi raccomando fate sempre attenzione non vi iscrivete soltanto perché vi promettono un regalo iscrivetevi se il canale vi piace e se ci sono dei contenuti che ritenete divertenti validi e motivanti tutto qui grazie coconut ti posso dire una cosa? sì certo sei stata bravissima ti sei resa conto subito che c'era qualcosa che non andava brava 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 è molto molto importante bene sono contenta beh mi sa che avete finito il tempo di internet quindi passa computer mettetevi a giocare finisce questo video e a giocare a palla con la bici fuori via su hai ragione ma 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 dov'è? ma dov'è punk boy? è laggiù oh perchè sta parlando con quei oh c'è un baby oh oh non è possibile non è stella sì stai mangiando l'immondizia? no e quel bidone? eh è stato il vento lo avrà portato il vento stella non si mangia l'immondizia ma che fa? che fa punk boy? non vorrà mica uscire con show baby? oh che pizza mai non riesco mai a uscire con quel bellissimo uffa ciao bene spero che questo video vi abbia insegnato qualcosa vi abbia divertito ma anche insomma vi abbia messo in guardia che appunto internet è bellissimo ma dovete imparare tutte le sfaccettature mi raccomando raccontate a tutti quanti questa storia e un bacio a tutti quanti ci vediamo prestissimo ciao 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 Grazie a tutti.